Nuova stagione al Teatro Sociale Aldo Giuffre con 7 spettacoli in abbonamento. Sabato 9 novembre di Donis in fabola con Vanessa Caravina. Sabato 22 dicembre Mostri e parte con Maurizio Casagrande. Sabato 19 gennaio Loro di Napoli con Gianni Ferreri, Cloris Brosca e Nello Mascia. Sabato 2 febbraio Forza il meglio è passato con Giorgio Pasotti. Sabato 22 marzo una settimana non di più con Milena Miconi, Mario Antinolfi ed Antonio Conto. Sabato 13 aprile La lettera con Paolo Nani. Sabato 4 maggio Il povero Pluto con Vito Cesaro. Cerchiamo sempre di migliorare, di fare sempre meglio ogni anno che passa. Quest'anno abbiamo 7 spettacoli in abbonamento di primissimo piano, qualcuno pure lo ospitiamo in esclusiva e 3 spettacoli fuori abbonamento di genere e modi diversi. Da non perdere, sulle punte e no. Lo spettacolo di danza messo in piedi, è proprio il caso di dire, dall'Astra Roma Ballet di Diana Ferrara che è stata la prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma. Procediamo con You Decide. è un spettacolo reality sull'11 settembre e il pubblico viene messo a scegliere tra la teoria del complotto e la teoria che tutti quanti conosciamo sull'11 settembre che poi ha cambiato, come si suol dire, le sorti del mondo. E concludiamo con Memento Domine, tratto dal romanzo di Dora Liguori e porta anche la firma della regia di Dora Liguori, lo spettacolo ed è sull'amara unità d'Italia vista dagli occhi di chi l'ha subita. Ferdinando Mandaloni, You Decide, a febbraio in esclusiva qui al Giuffré, autore, insomma un po' ideatore del tutto. Sì, sì, ideatore nel senso che dopo dieci anni di letture, di studio, perché ti devo raccontare quello che a me è successo ieri mi hanno raccontato che c'è stata una manifestazione per un giornalista, io mi occupo di giornalisti deceduti a partire dalla Politkoskaya, a partire da Natale Stemirova, eccetera e mi hanno raccontato che c'è stata questa manifestazione dove un collega è salito sul palcoscenico e ha cominciato a parlare, ma purtroppo per lui c'erano i genitori di questo ragazzo che non era un giornalista la mamma l'ha fermato e gli ha detto dove hai preso, vuoi spiegare a me chi era mio figlio? e lui ha detto io l'ho letto su internet allora non è un fare ricerche della notizia scoop la notizia va presa, va analizzata, va capita, va approfondita perché io quando salgo su un palcoscenico non voglio che ci sia nessuno che si possa alzare e dirmi ma dove l'hai presa questa notizia o meglio lo può fare, io gli tiro giù tutta la bibliografia e tutta la filmografia che ho visto che non vuol dire nulla perché anche quella è manipolabile ma ti do entrambe le spiegazioni fondamento quindi 8 febbraio 2019 al Giuffre di Battipaglia al Giuffre, al Teatro Aldo sono onoratissimo io di essere in questo teatro dedicato e per fortuna c'è un teatro dedicato al maestro vi aspetto perché sarete voi a decidere infatti il motto è You Decide